Grande successo per la revocazione della leggenda del Ponte del Diavolo qui al Ponte con Marco Basile. Come è stato a narrare sopra un ponte? Beh, a parte è emozionante che per noi che facciamo questo mestiere, narrare qualcosa di molto, molto, molto antico, come questa manifestazione, questa storia stupenda del Ponte del Diavolo, grande emozione. Poi è la prima volta per me qua con voi. Mi rinviterete ovviamente, no? Sicuramente. E io verrò molto volentieri perché ho passato veramente una bella serata. Come è stato qui a Tolentino che non conoscevi? Beh, Tolentino devo dire che ha, a parte il centro storico stupendo, persone molto carbate, molto riservate, molto a modo, una bella energia in questa città e non sono frasi fatte, io dico ciò che penso, sono famoso per questo, nel bene e nel male. Mi trovo a casa, non lo so, questa è la mia sensazione. Allora, tanta gente al Ponte per ascoltare, quindi Marco Basile per osservare il gruppo storico per questo grande evento, ma oltretutto anche per conoscere delle tradizioni di Tolentino, ma anche di prodotti tipici. E io ne conosco uno, Lucia Uscolo, me l'hai promesso, me lo devo portare a casa, perché io a casa la mattina stranamente faccio colazione con quello, quando ce l'ho ovviamente. Vengo anche ogni tanto, perché ho amici qua in zona, a prendere i vostri prodotti tipici. Io sono siciliano, ma credo che l'Italia sia tutta bella da questo punto di vista. E Tolentino, Macerata, Le Marche, quello che è, hanno dei prodotti straordinari. E io voglio Lucia Uscolo, chiaro? E provvederemo. Esatto, stasera torno a casa con Lucia Uscolo, due Uscoli.